Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, l'avevamo detto quando abbiamo presentato la manifestazione del 4 novembre, noi dell'emergenza crack a Palermo non ci dimentichiamo e non ce ne dimenticheremo e quindi continueremo a seguire questa vicenda perché tanti, troppi giovani sono coinvolti in questa drammatica emergenza, tanti giovani come tante famiglie e tantissime persone, quindi qualcosa bisogna fare. Noi oggi parliamo con Francesco Zavatteri, farmacista, lo avete già conosciuto in una prima puntata che abbiamo appunto dedicata al crack, a Francesco Zavatteri è morto, è un figlio proprio appunto per questa terribile droga e quindi sta portando avanti un'iniziativa, una serie di iniziative per cercare appunto di fare qualcosa a Palermo per aiutare tanti giovani proprio nel nome di Giulio. Abbiamo qui con noi anche Massimo Castiglia, ex presidente della prima circoscrizione, conosce benissimo tutta la realtà del centro storico dell'associazione SOS Ballarò, con lui appunto affronteremo quello che è il tema ancora perché loro sono stati promotori tra le tante associazioni di quella marcia che ha cercato di riportare al centro del tema appunto in città lo spaccio, anche se poi da un mese a questa parte diciamo se ne parla un po' un po' meno e quindi noi cerchiamo appunto di riportare diciamo i riflettori su questo fenomeno. Allora io cominciare proprio da Francesco Zavatteri, già un'altra volta abbiamo parlato appunto abbondantemente di quello che è successo, la tragedia appunto che l'ha toccato, da questa tragedia nasce un fiore, un'idea appunto di sostenere e aiutare in maniera assolutamente gratuita, in maniera assolutamente proprio spendendo il tempo che è poco, che è a disposizione per cercare di venire incontro a tantissime famiglie, tantissimi ragazzi che purtroppo in questa città soffrono, soffrono parecchio. E allora qual è l'idea, qual è l'iniziativa, qual è il progetto? L'idea intanto è quella soprattutto di trovare una chiave, una via per poter ascoltare questi ragazzi che hanno delle grandi sensibilità e delle grandi fragilità allo stesso tempo e poterli riconnettere, se possiamo usare questo, passatemi questo termine, con i genitori con i quali non riescono più ad avere un dialogo costruttivo anche per poterli soccorrere ad aiutare. L'idea è stata, come ho già detto, quella una settimana dopo il decesso di mio figlio, in modo abbastanza tragico, quella di creare un drop-in, un centro di accoglienza, di soccorso e di supporto per molti giovani, spesso anche minorenni, che si trovano a fare uso di questa droga devastante, che distrugge non solo la loro vita, ma anche quella dei genitori e di chi gli sta vicino, perché a un certo punto si allontanano da qualsiasi affetto, da qualsiasi amicizia per morire in condizioni molto terribili. Lo dobbiamo dire chiaro, di crack si muore purtroppo, di crack si muore, è una questione di tempo diciamo, non è una questione. In questo momento è la droga più devastante presente sul mercato a Palermo, è una droga molto diffusa che viene ceduta anche davanti alle scuole, anche a ragazzi minorenni, spesso viene omaggiata con lo scopo di farli diventare dipendenti perché basta una sola somministrazione per essere dipendenti da crack e poi l'assunzione diventa un'assunzione compulsiva, per cui bisogna fumare più dosi durante l'arco della giornata, a costo di commettere anche dei reati gravi pur di procurarsi il denaro o la dose. Noi abbiamo scritto più volte di una ragazza che rubava cellulari in tutti i pub di Palermo era diventata una, abbiamo scritto di un'altra ragazza che purtroppo rubava all'interno dei negozi abiti, vestiti e quant'altro, tutto serviva per comprare la dose di 10 euro, di 15, le dosi di 10 euro, un pezzo di crack costa 5 euro appunto giornaliere che servono per, quindi si diventa schiavi e si fa qualunque cosa e si porta tutto poi in certi posti dove si sa che si portano telefonini e roba rubata per ottenere appunto la dose, questo è il circuito purtroppo. Io ritengo che tutti i ragazzi in questa città sono esposti a questo fenomeno anche perché frequentando gli ambienti dove ci si incontra abitualmente, dove si fa musica nei pub, questa droga è molto diffusa e di facile assunzione e purtroppo c'è poca conoscenza degli effetti devastanti e drammatici che arreca questa droga al cervello perché distrugge le connessioni interneuronali facendo sì che poi la persona arrivi fino alla schizofrenia, cioè significa non riconoscere più i parenti più prossimi, i genitori e in un momento di agitazione o di aggressività si può commettere anche un omicidio. In questo momento diciamo l'azione appunto di Francesco Zavatteri è assolutamente incomiabile, però lasciarlo solo va assolutamente sostenuto. So che avete consegnato al neoprefetto Maria Teresa Cucinotta una lettera, tutta una serie appunto di associazioni per cercare di sensibilizzare su questo tema. Io facendo il cronista e parlando con un po' di persone so benissimo, come lo sanno tantissimi anche a Ballarocche, in cortile delle Bisacce, in via Casa Professa e anche alle spalle, in via Nunzio Nasi, in via Porta di Castro, in via delle Case Nuove, via Martoglio, via Del Bosco, Piazza Colaianni, lì quelle sono le strade del crack dove è molto facile purtroppo acquistare della droga. E allora cosa bisogna fare? Ma io cosa bisogna fare è un po' quello che chiediamo da quando abbiamo organizzato, abbiamo pensato di organizzare il corteo, il corteo che è stato promosso da oltre 60 associazioni che hanno deciso di scendere in piazza, lo abbiamo fatto in un momento in cui era morta una ragazza a piazza Brunaccini, era morto Giulio, che io non conoscevo, apprezzo l'impegno della famiglia da Zavatteri e mi sembra una cosa assolutamente straordinaria anche affrontare un lutto in questa maniera, un lutto così grave tra l'altro in questa maniera, è una manifestazione che ha messo insieme tante realtà perché in questo momento c'è un'emergenza, l'albergheria se ne è accorta perché l'albergheria ha al suo interno alcune piazze le dicevi tu Ignazio ma ce ne sono anche altre, c'è piazza Baroneo Manfredi, ci sono altri vicoli, diciamo Vicolo Gallo, potrei continuare a citare altri luoghi di consumo dove la presenza di ragazzi e ragazze ma anche non solo giovani in tossicodipendenza in assunzione di crack era per sé che quotidiana, dico era perché in questo momento c'è ancora ma in qualche modo dopo il corteo si è un po' allentata e questo non era quello che voleva fare il corteo, il corteo non voleva mandare via i ragazzi in tossicodipendenza, il corteo ha denunciato, ed è quello che abbiamo scritto sulla lettera, nero su bianco, il fatto che sulle tossicodipendenze, sul consumo di crack in questa città, in questa regione non c'è una politica attiva, i dati ce lo dicono con molta chiarezza, ci sono solo a Palermo 6 medici a disposizione per 2000 utenti dei CERD, ex CERT, servizi per le tossicodipendenze, che sono diventati servizi per le dipendenze, alla luce della nuova legge. Non ci sono comunità in doppia diagnosi, che sono quelli che sono molto legati al consumo del crack, perché come diceva bene il dottore Zavatteri, il tema del consumo di questa sostanza poi ti porta anche a derive psicotrope che in qualche modo vanno affrontate e che ti portano anche ad avere bisogno non solo di curare la tossicodipendenza, di avvenire fuori dalla tossicodipendenza, ma anche di quelle che sono le conseguenze che ci sono a livello psichico, e questo non avviene in Sicilia, non ci sono queste comunità, non ci sono, è vergognoso che non ci siano, non ci sono comunità per giovani in tossicodipendenza, per minore in tossicodipendenza. Questi sono fatti concreti, non ci sono drop-in, non ci sono luoghi a bassa soglia dove si può intervenire direttamente. E quindi, preso atto di questa situazione, il prefetto dice bisogna fare sistema, bisogna mettere seduta attorno a un tavolo, fare sistema. Assolutamente, assolutamente. E quindi l'idea qual è adesso? L'idea è quella di aprire il primo drop-in a Palermo che sia da una parte sostenuto dalle istituzioni che devono assolutamente fare la loro parte, quindi un centro dove ci sono dei medici specializzati per poter accogliere, dare un primo soccorso a questi ragazzi e cercare di supportarli. L'idea è anche quella di, un'idea forse un attimino, come dire, l'idea è quella di aprire in sostanza un ambulatorio dove combattere il craving, che è il desiderio patologico di assumere a tutti i costi la sostanza, attraverso la simulazione magnetica trascranica e quindi di attrezzare un ambulatorio per poter aiutare questi ragazzi veramente a venire fuori da questa dipendenza terribile che li porta sicuramente a dei siti in Fausti. Creare all'interno di questo drop-in anche uno spazio dormitorio dove questi ragazzi possono magari riposarsi, ristorarsi perché molto spesso dormono abbandonati per la strada, non si lavano neanche, hanno difficoltà anche a procurarsi del cibo perché tutti li ignorano ovviamente. E all'interno di questo ambito creare dei laboratori di arte, di pittura, di musica, di ballo, creare anche dei dibattiti perché solo parlando e affrontando i problemi si riesce a risolverli, non girando la testa dall'altra parte e facendo finta laddove nelle famiglie c'è un figlio che ha problemi di tossicodipendenza dove spesso, come diceva mio figlio col quale io parlavo molto apertamente, tu non ti rendi conto che noi siamo dei ragazzi che abbiamo una sensibilità diversa rispetto agli altri. Quindi bisogna affrontare questi problemi cercando di risolverli con l'unione di tutti perché qua si tratta dei figli di tutti. C'è un progetto in mente e che si sta cercando di portare a mano. C'è un'iniziativa che è quella del Teatro Massimo, così facciamo appunto… Di raccogliere dei fondi attraverso un evento… Fondi che saranno dichiarati, che saranno tutti assolutamente trasparenti… Assolutamente, un evento musicale che si svolgerà il 5 di marzo nella Sala Grande del Teatro Massimo dove si esibiranno diversi artisti molto noti qui a Palermo e anche a livello nazionale, alcuni internazionale. Io racconterò la breve storia della vita di Giulio che era un ragazzo veramente straordinario che dipingeva, disegnava in un modo incredibile, parlava tre lingue come se fosse madrelingua e contemporaneamente cercheremo di fare una riflessione e di aprire un dialogo con i giovani di questa generazione che hanno delle grandi difficoltà ad adattarsi alle difficoltà, alle problematiche della vita odierna. Quindi state cercando un luogo, un luogo dove fare appunto, dove realizzare la casa di Giulio. E' questo, dico, il progetto che sarà appunto questo luogo di cui si parlava prima, dove accogliere e cercare di aiutare appunto questi giovani e farlo nella zona, diciamo proprio, del centro storico. In una zona vicino alle piazze di Spagna. E già ci sono delle possibilità con cui state lavorando anche con l'amministrazione comunale. Sì, noi abbiamo recentemente fatto un sopralluogo in compagnia di un architetto del comune di Palermo che diciamo è l'abbetto al patrimonio del comune di Palermo. Abbiamo visitato questa struttura di circa 800 metri quadrati che è in condizioni pessime perché è stata abbandonata da circa tre anni, per cui ci sono stati degli atti vandalici all'interno e quindi contiamo con l'aiuto anche dei volontari di ripulirla, metterla su per poter iniziare a partire con questo progetto. Dove ci vuole l'aiuto e la volontà di tante, non solo di tante figure istituzionali, ma anche di tanti volontari e del terzo settore e lo scopo è solo quello di aiutare questi ragazzi e di fare sì che questa piaga enorme e terribile non si espanda ulteriormente perché la situazione è veramente veramente delicata. Un posto del genere serve sicuramente nel centro storico, ne servono anche altri in altre zone di Palermo perché non è soltanto Ballarò, non vogliamo criminalizzare soltanto qua a Ballarò, ma sono tante le... E quindi bisogna adoperarsi per fare qualcosa. Voi che dite? Ma io torno un attimo all'appello sul prefetto, alla quale, essendo una donna, auguriamo di stare dentro, diciamo, con le mani dentro la città per comprendere quanta forza Palermo ha, quello che diceva il dottore Zavatteri è assolutamente centrale, quanta forza c'è nei territori, nell'associazionismo, nei volontari, nei tanti e tante che si vogliono impegnare per migliorare Palermo. Però alla prefetta gli auguriamo soprattutto di mettere attorno a un tavolo quelli che sono i soggetti, che sono assolutamente assenti dentro questa vicenda. Noi vogliamo che l'assessore regionale venga a capire, a dire nero su bianco, quale è l'impegno che la regione intende prendere sul tema delle tossicodipendenze. Noi non ci vogliamo sostituire, non siamo esperti del settore, abbiamo solo lanciato un campanello d'allarme. 60 associazioni hanno aderito per dire che questa situazione non può continuare, non possiamo ignorare che c'è un problema, il corteo è stato molto partecipato da tanti e tante, tanti insegnanti, c'erano presidi, le parrocchie, il bescopo, il mondo della politica locale, insomma tutti hanno aderito perché hanno capito tutti quanti che se sul tema, su un tema come questo bisogna ragionare insieme e andare nella stessa direzione. Però dobbiamo dire le cose, il terzo settore, e lo abbiamo scritto in questa lettera, non può sostituirsi all'istituzione, può dare una mano, quindi alla prefetta e a tutte le istituzioni, al sindaco, al presidente della regione, all'assessore regionale della sanità, all'ARS, a tutti i componenti dell'ARS, diciamo nero su bianco, che devono prendere, diciamo come abbiamo detto al signor prefetto, senza offesa, ai suoi viceprefetti che ci hanno ricevuto, perché il prefetto ancora non c'era, di prendere il toro per le corna, perché sono loro che devono assumere la responsabilità di un tema che è assolutamente vuoto. E questo non avviene solamente con l'iniziativa che può fare assolutamente straordinaria e meravigliosa, alla quale aderiremo tutti, che vuole portare avanti il dottore Zavatteri, ma deve essere assolutamente preso, diciamo, in considerazione il fatto che oggi la regione sicilia non ha nemmeno recepito la legge nazionale ultima sulle tossicodipendenze. sul tema del crack non ci sono soluzioni, e lo dobbiamo dire, ma ci sono dei percorsi che si possono intraprendere, alcuni per esempio sono, come fanno alcuni ragazzi a Palermo, che si riuniscono tutti i lunedì al Porco Rosso alle 16, sono i gruppi di autoaiuto, sono ragazzi che sono stati tossicodipendenze, o che qualcuno ancora lo è, assuntore anche di crack, e che si riuniscono e che si autoaiutano. Sull'autoaiuto gli states ci hanno fatto scuola, perché gli Stati Uniti sono stati i primi, hanno iniziato con l'alcol, poi hanno continuato anche con il crack, vedi anche quello che è successo negli ultimi 30 anni negli states con il crack, ecco, questa ondata sta arrivando anche qui da noi, dobbiamo prendere il toro per le corna, non c'è possibilità di stare fermi, non possiamo stare fermi, non possiamo aspettare che qualcuno di noi si sostituisca, non stiamo parlando di quello che Gertre Sottotitore fa, cioè occuparsi dei minori, del tema dell'educazione dei minori nei territori, qui ci vogliono gli specialisti, ci vuole il camper che gira zona per zona dove ci sono le situazioni di consumo, ci vogliono gli educatori formati a ragionare, e le educatrici formati a ragionare con chi è in sostanza, ci vogliono tante cose, e non può essere sicuramente quello che ci dice l'ASPO in questo momento, c'è un tema di emergenza, io do un dato solamente, che è scandaloso, la provincia di Palermo, solo Palermo e provincia, ogni anno spende un milione di euro per ricoveri in comunità, in doppia diagnosi e comunità per minori fuori dalla regione Sicilia, perché noi qui non ne abbiamo, allora moltiplichiamo per tutte e nuove le province, quanti soldi spendiamo inutilmente, spesso e volentieri va detto, perché chi va in ricovero fuori dalla regione, gli salta immediatamente la rete familiare, perché è complicato tenere relazioni, i ricoveri avvengono quasi tutti in maniera spontanea, per cui tu dichiari di aderire a un progetto, e spesso e volentieri scappi, allora io so di famiglie che ce l'hanno raccontato, e lo so perché sono venute proprio a cercarci dopo il corteo, di figli che li hanno dispersi in Emilia Romagna, in Piemonte, in Toscana, perché non li trovano, perché sono scappati dalle comunità dove erano, e non li trovano più, allora questa non è modalità di affrontare il tema, le ASPO sono obbligate a fare i ricoveri, li possono fare anche all'interno della regione Sicilia, Lei si è trovato in questa situazione, diciamo assolutamente catapultato appunto da quanto lei è successo, si sente sostenuto in questa sua nuova battaglia dalle istituzioni? Devo dire che ho trovato una grande accoglienza da parte del sindaco Roberto Lagalla, che si è molto immedesimato nella situazione, anche da parte del vice sindaco l'onorevole Carolina Varchi, con la quale abbiamo parlato anche di un progetto di disegno di legge per affrontare il problema nello specifico, e che giace attualmente in Parlamento ed è stato accantonato. Sì, in questo momento sento la vicinanza delle istituzioni, però bisogna vedere di concretizzare e di fare i fatti, perché molto spesso succede che magari alle parole non seguono i fatti, e siccome io penso di essere una persona seria e responsabile, desidero assolutamente portare avanti questo progetto, perché nessuna famiglia debba piangere un figlio come è successo alla nostra, che credetemi è la cosa più terribile che possa accadere, perché già è difficile farsi una ragione di un figlio che muore in un incidente stradale o per una malattia o per il cancro. Immaginatevi un ragazzo come Giulio, che era un ragazzo straordinario, bello, intelligente, al quale non mancava alcuna risorsa, con due fratelli che lo adorano ancora e stanno soffrendo. Perdere un figlio in questo modo è una cosa che cambia completamente la struttura familiare, la vita e anche il desiderio di lottare, perché noi adesso lottiamo, perché speriamo di fare risorgere altri ragazzi che non debbano essere pianti dalle loro famiglie. E allora, noi le staremo a fianco sicuramente perché abbiamo intrapreso questa battaglia e speriamo appunto di poter cominciare a raccogliere un po' i risultati. Vi ricordiamo sempre quindi l'iniziativa del 5 marzo, ne parleremo anche abbondantemente per cercare appunto di fare un po' di sana pubblicità su questa vicenda. Poi non so se ci saranno nuove altre iniziative appunto per tenere sempre calda la questione perché secondo me ci vuole, perché tanta gente anche in città secondo me non si comprende molto qual è l'emergenza, l'emergenza cracker, l'emergenza droga. Io mi è capitato di parlare anche con persone che quasi quasi non restavano stupiti del fatto che ci fosse così appunto la diffusione del crack in città, anche persone diciamo abbastanza di ceto medio-alto. E quindi questa è una cosa che bisogna tenere sempre caldo, io spero di poter appunto avervi ospiti anche altre volte, di dare voce appunto a quelle iniziative che fate, ne fate tante anche appunto nel quartiere. Allora io vi ringrazio davvero, ringrazio appunto Francesco Zavatteri che è stato il nostro ospite, Massimo Castiglia, SS Ballarò e alla prossima puntata. Grazie a tutti.